Una soddisfazione alzare il trofeo migliore in questa competizione, il Panzai, anche per Fedele Criscuolo. Sì, è una bella soddisfazione venire qua nel primo anno, ho vinto il torneo Panzai e ho vinto il capocannoniere, grazie comunque pure alla squadra che mi ha dato una mano e mi ha permesso di fare quello che ho fatto. Bene, da un'idea comunque nata da Franchini, in pochi secondi, in pochi attimi, è riuscito all'esterno a squadra, comunque il divertimento era quello più che altro. Sì, in effetti il messaggio di tattica è stato veloce, ha attrezzato una squadra con tutti quanti noi che giocavamo insieme a Cisterna, al volo e tutti quanti abbiamo ovviamente detto di sì per ritornare a giocare pure insieme e divertirci un attimino. Quello che abbiamo fatto, ci siamo divertiti, ci siamo ritenuti una piccola soddisfazione, il procedimento a casa va sempre comodo. Allora adesso il meritato riposo, poi pronti per la nuova stagione? Eh sì, adesso ci riposiamo questo mesetto, poi si alvia con la preparazione e siamo pronti per fare un'altra stagione col coltello fra i denti.